Beh, ma la mia cima è un termine da tipo aristocratico lì col cappello Eh, cioè, tu non hai un cappello? Eh, ho un cappello ma non ho un cilindro, è quello che è importante Io sì, hai visto il mio cilindro più lungo del mondo, no? Lo voglio vedere di brutto, me ne prendi uno Lo sto prendendo No, guarda che poi voglio diventare intellettuale anch'io se lo prendi Guarda, tu praticamente lo prendi, deve essere molto lungo come il mio, vedi? Poi quando lo indossi È lunghissimo Diventi super figo Quindi parla un po' da intellettuale? Oh, ti invierò una missiva per comunicare a tua madre Che ella venne avvistata nel 1806 a fare la meretrice nelle strade di Bologna Nooo È proprio così Guarda, lo accetto, se lo dici così lo accetto di brutto E tutta la gente, il luogo, il lugar usò le sue funzioni C'è proprio inquuarono C'è proprio inquuarono le loro membranze e i loro organi riproduttivi a ella Per saggiarne la consistenza Grazie a tutti